Siamo arrivati fin qui, ce la giochiamo? Ce la giochiamo da eterna promessa, facciamo sempre risultati a sorpresa, l'anno scorso siamo usciti nei quarti di finale, vediamo di migliorarci quest'anno. Partite difficili, loro primo anno con noi, una bella squadra, non li conoscete? No, non li conosciamo, abbiamo visto che hanno vinto 7 a 3 negli ottavi e meritano rispetto. Sono anni che siete con noi, col calcio a 5, vedo sempre un netto miglioramento. Sì, prima non ci siamo qualificati, poi gli ottavi, i quarti e adesso speriamo di andare a semifinale. Buona partita, Trezzano Socerfai, Salvatore, Minto, siamo a un bivio anche stasera? Eh sì, direi proprio di sì, questa è una partita decisiva, dentro fuori per le semifinali, noi siamo pronti, siamo carichi, sappiamo che è una partita difficile, vediamo di affrontarlo con lo spirito giusto e riuscire a superare il turno. Beh, direi che come primo anno nel nostro campionato è più che positivo essere arrivati fin qua. Sì, direi proprio di sì, fino adesso siamo abbastanza soddisfatti, speriamo di riuscire a completare il tutto arrivando fino in fondo. Anche l'altra vostra consorella, diciamo, fin time player giocheranno domani sera, perciò due squadre ai play-off, direi che è positivo nel giro di Trezzano. Già un gran bel grosso successo, un in bocca al lupo anche al fin time player e speriamo che entrambi di ritrovarci in fondo. via.